Con il patrocino della regione Abruzzo, comune e aziende di soggiorno, il nuovo circolo culturale Rosetano Logos ha organizzato un importante convegno regionale di studi su un tema particolarmente sentito. Il convegno che si articolerà per ben tre giornate il 2-3-4 maggio prossimi nella sala della Villa Comunale vedrà la partecipazione di noti studiosi e docenti di varie discipline umanistiche che relazioneranno su tre distinti temi, aspetti e dimensioni d'Abruzzo, storia e cultura in Abruzzo tra l'Ottocento e il Novecento, arte e folclore della regione. L'iniziativa del circolo culturale Logos merita certamente una più compiuta attenzione interessandosi di un territorio che ci ritrova particolarmente interessati e sui motivi, significati e riattesi abbiamo richiesto la parola al direttore del centro stesso, professoressa Patricia Corradi. L'iniziativa del circolo culturale Logos ha diversi scopi, in parte legati alla cultura del territorio, in parte legati agli stessi scopi, agli stessi intenti del circolo. È un circolo che è nato affinché tutti possano avere una voce, quindi il convegno di quest'anno sarà ripetuto negli anni, ogni anno minimo vi sarà un convegno di questo genere in cui le voci dei cultori della storia, del sapere locale potranno in qualche modo avere la possibilità di confrontarsi direttamente con un pubblico e quindi esporre i propri lavori. È ovvio che di solito questi studiosi spesso e volentieri si rinchiudono nelle proprie case oppure in ambiti ristretti e alle volte sembra che non vi sia in effetti un'attività culturale. Io ho potuto notare che a Roseto vi è molta attività culturale, però è un'attività che si restringe a circoli, non a circoli, a gruppi possiamo dire, a gruppi locali. Per cui la maggior parte dei rosetani non sa che in effetti Roseto ha molta cultura, ha molta gente che si occupa di diversi branchi del sapere, che vanno dalla storia alla grottologia, alla filosofia, quindi è una città ricca, ricca anche di personalità di relativo spicco, dico relativo per modestia. Quindi questo è il primo scopo. È ovvio che non abbiamo voluto ghettizzare questa iniziativa a un livello esclusivamente locale e territoriale e abbiamo voluto dare una maggiore ampiezza al convegno facendo intervenire ovviamente docenti universitari e per lo più da università abruzzesi. Quindi si parlerà del nostro territorio, si parleranno delle nostre origini e dal punto di vista dell'arte e dal punto di vista storico e si parlerà anche molto dell'Abruzzo. Vuole essere una rivalutazione ovviamente questo convegno dell'Abruzzo, della sua storia, delle sue origini, delle sue tradizioni perché ne ha moltissime. L'Abruzzo ha dato molto alla cultura, però purtroppo spesso e volentieri non si è mai inserita in grandi canali, per cui questa cultura si è un po' rinchiusa e ha prodotto solo a livello provinciale. Quindi noi vogliamo portarla alla luce, portare alla luce tutto ciò che in effetti è nel nostro territorio, in particolare ovviamente nella Valvomano. Questo convegno sorge a Roseto e si intitola appunto convegno Valvomano. Forse nessuno sa quanta storia può avere di tra le spalle un paesino come Morrodoro, oppure credevo dire anche notaresco, moltissimo, Montepagano poi non se ne parla, anche Montepagano, una grande tradizione storica dietro le spalle. Sono tutti centri molto piccoli, alcuni ormai in piena decadenza, ma ricchi di cultura, ricchi di storia, centri che vanno rivalutati. Il nostro scopo parte dalla cultura, ma vuole anche essere uno stimolo affinché da quest'ambito strettamente culturale si dia un pungolo a chi di dovere affinché vengano rivalutate certe zone bellissime, ricche di tante cose, degne di essere conosciute. Quindi spero che questo convegno, oltre ad avere un significato strettamente culturale, abbia anche risonanza dal punto di vista turistico e dal punto di vista anche, diciamo, economico e soprattutto faccia comprendere alle popolazioni locali, anche seppur vivono in piccoli paesi, non sono da considerarsi, non dico dei provinciali, ma per quanto addirittura dei paesani, in quanto ognuno porta dentro di sé il frutto della propria storia e delle proprie tradizioni e ogni individuo, siccome è un qualcosa che viene da lontano, è degno di rispetto, è degno di nota e deve essere orgoglioso di se stesso e del proprio passato.